benvenuti a questo nuovo video corso in cui vedremo come ottenere con microsoft word 2010 ma la procedura è applicabile per tutte le versioni successive una stampa unione chiariamo di che cosa si tratta la stampa unione una procedura denominata stampa in serie ad esempio con software open come open office o libre office una procedura che ci permette partendo da un documento modello come quello che stiamo osservando quindi un semplice documento di testo abbinare a questo documento di testo degli indirizzi che avremo precedentemente inserito per inviare a più persone lo stesso documento nel caso dell'esempio che io ora vi sto mostrando pensiamo proprio alla convocazione ipotetica di un'assemblea di condominio impossibile pensare che l'amministratore rediga documenti diversi per ciascun destinatario semmai si servirà di un documento modello come quello che abbiamo davanti ho preso naturalmente un file di repertorio dal mio archivio se vedete è un semplice documento di testo dove però l'unica cortezza è stata quella di lasciare uno spazio vuoto sufficientemente grande da ospitare un blocco indirizzi io l'ho lasciato a questa altezza ma se immaginate di creare un documento che vada in una busta con finestra basta scegliere uno spazio bianco concomitante con la finestra della nostra busta quindi mediante word in questo caso abbiamo un documento modello che è questo e dovremo aver precedentemente realizzato con excel un indirizzario come quello che stiamo osservando ricordo che nella riga 1 di un foglio elettronico devono sempre esserci titoli delle colonne ok mai un dato diretto inserito questo è un classico esempio di un elenco di indirizzi di condomini che quindi risiedono nello stesso indirizzo vedete cognome nome indirizzo cap città provincia paese non tutti questi campi dovranno finire nella stampa unione a questo punto abbiamo il documento degli indirizzi di esempio lo vado a chiudere partiamo dal nostro documento modello dal documento modello quindi clic nello spazio vuoto abbiamo conferma della presenza del cursore clicchiamo su lettere clicchiamo su inizia stampa unione e addirittura io vi consiglio da che la procedura lo prevede di cliccare su creazione guidata stampa unione nel riquadro di destra specifichiamo su quale documento stiamo lavorando lettere perché in effetti si tratta comunque di un documento di testo passaggio 1 di 6 clic su successivo usa il documento corrente sì perché è quello che abbiamo dinanzi a noi quindi clicca ancora su successivo usa elenco esistente usa elenco esistente in questo caso è corretto perché in precedenza come vi ho mostrato prima noi abbiamo già salvato con excel un documento contenente indirizzi clicchiamo sfoglia decidiamo dove è il nostro file excel con gli indirizzi nel mio caso vado a scegliere desktop elenco condomini apri confermo con ok mi mostra i campi che possono essere interessati ok dalla stampa unione l'origine dati è il file che si chiama elenco condomini cognome nome indirizzo ecco le differenti colonne clic ok perfetto vedete che è stato agganciato il file con gli indirizzi successivo quindi composizione lettera è possibile ad esempio cliccare su blocco di indirizzi per verificare cosa verrà inserito nel nostro documento e quindi qua cominciamo a capire cos'è una stampa unione inserisci indirizzo postale includi il paese solo se diverso dall'italia ok inserisci il nome del destinatario con questo formato cosa voglio voglio mario rossi o voglio differenti formule signor mario rossi cioè ci sono differenti modalità che noi possiamo scegliere per personalizzare la stampa unione cliccando su corrispondenza campi come ora vado a fare è possibile verificare che il blocco degli indirizzi appaia concretamente per essere ancora più chiaro devo avere i dati come ad uno specchio blocco degli indirizzi ok accanto a nome ci deve essere scritto nome altrimenti il mario di mario rossi non appare viene scritto nessuna corrispondenza per cui accanto a nome nome accanto cognome la parola cognome canto indirizzo la parola indirizzo e così via diamo un ok per scrupolo clicchiamo ancora su ok vedete che appare un generico blocco indirizzo il fatto che sia tra le virgolette significa che io li ho un record cioè ho un campo che cambierà su ogni lettera quindi la prima lettera sarà indirizzata a mario rossi la seconda lettera sarà indirizzata a luca verdi clicco ancora su successivo vedete che mi mostra l'anteprima della prima lettere quindi il primo destinatario ma basta cliccare a destra come vedete sulle frecce di scorrimento ed ecco che vedo anche gli altri destinatari ricordatevi che siccome immaginiamo siano condomini abitano tutti chiaramente nello stesso immobile che nella stessa via posso ancora cliccare su successivo e completo la stampa unione a questo punto cliccando su stampa io posso lasciare anche la voce tutti cliccare ok in questo caso l'amministratore avrebbe in stampa con la sua stampante predefinita accesa e collegata al computer tutti i documenti pronti per la convocazione che vengono stampati uguali ma ciascuno con un indirizzo diverso e qualora dovessimo fare modifica di una singola lettera lasciando che gli indirizzi cambino di volta in volta ecco che è sufficiente cliccare a destra su modifica singole lettere a questo punto la nostra stampa unione è perfezionata e io vi do appuntamento al prossimo video corso